Amici Follower, siamo tornati, siamo arrivati a Bassano del Groppo, dai seguiteci, andiamo Adesso io introdurrò la mia mano qui dentro Grazie di seguirci Ci vediamo alla prossima, sempre domenica Amici Follower, ma soprattutto amici, siamo tornati, buon inizio anno, oggi primo gennaio del via 24, andiamo a fare mezza vasca a Bassano del Grappa, speriamo che sia un buon anno Buon anno per tutti, ci sentiamo dopo quando arriviamo Amici Follower, siamo arrivati a Bassano del Groppo, dove i nostri nonni fecero la seconda guerra mondiale per difendere l'onore della patria italiana, oggi è il primo di trovare qualcosa di aperto, sì perché il movimento c'è, speriamo che qualche barretto, qualche ristorantino sia aperto per Disney, piace come ho detto Disney, e adesso andiamo a berci un caffettino, sei molto perloquace, per spiquace, per quella roba là Siamo davanti al Tetley's Pub, si allenta un po', cosa dici socio? Si potrebbe andare anche perché è l'unico posto aperto Eh, per non evitare di tornare indietro, magari che non c'è posto Andiamo qua, tanto c'è abbastanza roba, il localino si presenta anche abbastanza bene Dai, seguiteci, andiamo Pensate che questo ponte è stato costruito durante la prima guerra mondiale, distrutto poi dai bombardamenti aerei nel 45, venne ricostruito nel 1947 dal genio civile di Vicenza Amici followers, sto aspettando il mio socio che dica anche amici followers, sta arrivando Carissimo, eccoci qua Siamo all'uscita, vedete, aspetta, eccolo lì, il pub dove siamo andati a mangiare Abbiamo mangiato molto bene, la carne di Angus era buonissima, il piatto di verdurine Gli ho preso hamburger, hamburger buono, molto buono, con 200 grandi carne Le zavorrine hanno preso, la mia zavorrina ha preso il sandwich Invece la tua zavorrina ha preso una bruschetta con tonno cipolla Adesso siamo qua, se sentite il rumore delle macchine a sinistra e del... Esatto, abbiamo pagato 63 euro, si è mangiati bene Se venite a Bassano del Grappa, venite al pub Tetleis pub, vicino proprio al fiume Adesso andiamo a farci una passeggiatina di là, va bene? Adesso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti